guardate un po cosa scrive l'ottimo nicola bizzi di cui ho già avuto modo di parlare e che è sempre o quasi sempre molto ben informato ve lo sto dicendo da alcuni giorni non vi fate distrarre da ciò che avviene in francia tenete gli occhi puntati sulla germania se la germania il regno unito abbatteranno congiuntamente una certa narrazione e sembra proprio che questo avvenga dico io chiuso l'inciso può cadere presto tutto anche in italia e non ci saranno le nuove aberranti restrizioni che qualcuno vorrebbe applicare qui a partire dal 17 agosto lo dice nicola bizzi vi invito iscrivervi al mio canale e a mettere like se vi piacciono i contenuti che propongo e volevo darvi solo questo input e riportarvi il pensiero di nicola bizzi che ripeto di solito ci azzecca grazie al prossimo video